La nera artistica, Paolo Calissano, una vita da divo, di Andrea Simone. Negli anni 90, Paolo Calissano è stato uno degli attori più apprezzati e quotati del mondo Mediaset. Nasce a Genova il 18 febbraio 1967 da una delle famiglie migliori del capoluogo Ligure. È figlio di un ex ufficiale dell'aeronautica militare e di una nobildonna discendente della stirpe dei Conti di Mantova. Da ragazzo gioca a calcio professionalmente nelle fila della Sampdoria come portiere. In seguito va a studiare negli Stati Uniti e nel 1990 studia a Boston nella School of Arts, intraprendendo quindi la carriera d'attore. Nel 1993, a 26 anni, compare nello spot del Magnum Algida. In seguito partecipa ad alcuni fotoromanzi e debutta nel cinema e in televisione. Grazie alla propria avvenenza e bellezza, l'attività cinematografica è molto intensa e quella televisiva non è da meno. In televisione sono numerosi i programmi che lo vedono protagonista. Tra questi, Giochi senza frontiere, tra il 1993 e il 1994 e Divieto d'entrata con Natalia Estrada su Rete 4. Nel 1995-1996 è in tv insieme a Samantha Legrenet nel programma 8mm. Il vero successo arriva però con le fiction televisive. La dottoressa Gio, dove recita accanto a Barbara D'Urso, la miniserie Per Amore, due stagioni della serie televisiva Vento Riponente e la sopa opera Vivere, tra il 1999 e il 2001. Nel 2000 Paolo Calissano lavora sempre come attore nel videoclip Mi Amore di Vana Spagna. Nel 2004 entra nel cast del reality show L'Isola dei Famosi, ma decide di lasciare il programma prima del tempo per un infortunio al ginocchio. Poi, per Paolo Calissano, inizia un periodo buio per una brutta vicenda di droga che lo vede coinvolto. È il 25 settembre 2005, siamo a Genova. Anna Lucia Bandeira Bezzerra, una donna brasiliana, muore per un overdose di cocaina nell'appartamento di Paolo Calissano. La polizia arresta subito l'attore e l'accusa per lui è gravissima. Cessione di sostanze stupefacenti. In un armadio della casa di Calissano vengono trovati e sequestrati 30 grammi di cocaina. In seguito viene disposto a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'attore, che viene condannato a quattro anni di reclusione per aver causato la morte della donna. Calissano domanda e ottiene di scontare la pena presso la comunità per tossicodipendenti fermata da autobus di Trofarello, nel Torinese. In seguito al patteggiamento, Calissano finisce di scontare i quattro anni dopo aver ottenuto l'indulto nel gennaio 2007. Da quel momento, però, le porte dello spettacolo si chiudono per Calissano, anche se il 20 dicembre 2007 torna a recitare nel musical A un passo dal sogno al Teatro Brancaccio di Roma. Si tratta di un testo scritto da Maurizio Costanzo e Enrico Vaime, ispirato dal romanzo di Chico Sfondrini e Luca Zanforlin, ma la sua partecipazione viene interrotta improvvisamente nel febbraio 2008 per un malessere. Dopo un lungo silenzio, Paolo Calissano torna in televisione nel 2014 per una lunga intervista con Barbara D'Urso. È il 13 febbraio 2008. Paolo Calissano sale di nuovo alla ribalta delle cronache per un incidente automobilistico. Viene ricoverato nella divisione psichiatrica dell'ospedale San Martino di Genova, con sintomi quali sudorazione fredda e dolore al petto. Vengono eseguiti accertamenti tossicologici che evidenziano ancora tracce di cocaina nel suo organismo. I test clinici svolti nei giorni successivi stabiliscono che Calissano è raggiunto in ospedale in stato di alterazione psicofisica per uso di allucinogeni ed era in possesso di una modica quantità di cocaina. Roma, 30 dicembre 2021. Paolo Calissano viene trovato morto nel suo appartamento. A ucciderlo sembra sia stata un'overdose dei psicofarmaci. Gli inquirenti ritengono che l'attore sia deceduto almeno 24 ore prima del suo ritrovamento, ma l'ultima chiamata alla ex fidanzata Fabiola Pavese, che ha ritrovato il corpo privo di vita, è della sera del 29 dicembre. La tesi più accreditata rimane quella del suicidio, anche se sono in molti a sostenere che Paolo Calissano stesse facendo nuovi progetti e che stesse preparando un suo ritorno sulle scene, forse anche solo come sceneggiatore. Negli amici, nella ex fidanzata, credono dunque all'ipotesi del suicidio, ma piuttosto a un'assunzione errata di un quantitativo di psicofarbaci. La cosa che spiace di più è che un uomo che dalla vita aveva avuto tutto, bellezza, ricchezza, denaro, fascino, fama e belle donne, se ne sia andato così, che a soli 54 anni abbia dato l'addio al mondo. Tutti lo ricordano come una persona gentile e disponibile, e forse la cosa migliore è conservare questo ricordo di lui, quello di un attore bello ma sfortunato, forse profondamente solo, schiacciato da vicende più grandi di lui, che non ha saputo gestire il successo e i propri demoni interiori. Paolo Calissano se ne è andato così, a due giorni dall'inizio del 2022, da solo, mentre fuori il mondo si preparava a festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Grazie.